Il nostro obiettivo è cominciare da Napoli per portare in giro per l'Italia questo evento che parla di legalità e del rispetto delle regole dello sport e solidarietà. Innanzitutto che ci fa piacere il Giova Stampa, o lei lo voglio dire, però ovviamente ancora di più, a parte gli scherzi per lo scopo nobile che abbiamo sposato tutti. Quando si tratta di solidarietà voglio dire che sia sempre in prima linea, almeno per quanto mi riguarda. La prima partita del sole si terrà la sera di martedì 30 maggio allo Stadio San Paolo. Biglietti di 5 e 2,5 euro per un incasso da devolvere interamente a varie associazioni del territorio e dalla ricostruzione delle scuole colpite dal terremoto ad Amatrice. In campo, oltre ad attori e cantanti, con i rinforzi di Quagliarella, Careca, Alemao e Carnevale, anche i magistrati. La società civile deve essere rappresentata da tutti e tutti quanti devono contribuire in qualche modo anche nel piccolo, a fare in modo che la società riesca ad acquisire quei valori che sono un po' ormai decaduti nel tempo e si riesca a migliorare le condizioni di questa città e del paese di pari passo a quello che accade anche negli altri paesi europei. La partita del sole ha tanti risvolti sociali, di legalità, c'è la nazionale dei magistrati, gli attori, ex calciatori, un bellissimo messaggio con le scuole, ci saranno tantissimi bambini presenti. Diamo un'idea diversa dello Stadio San Paolo, uno stadio accogliente, fatto di tanti bambini, dove ci saranno tante persone che vorranno portare una testimonianza di sport e di legalità. Grazie. Grazie.